Presso l'auditorium Massimo Troisi di Morano Calabro si è svolta la quinta edizione del premio internazionale Poesia e Letteratura Morano Calabro Città d'Arte, evento conclusivo del premio internazionale Silvia Platte d'Amelia Rosselli, promosso dall'associazione culturale Orion, presieduta dal poeta Mario De Rosa ed inserito nel cartellone degli eventi estivi di Morano Calabro. Dopo il grande successo del premio Jack Kerouac dell'anno scorso ho voluto affrontare la tematica, la poesia femminile, dedicandola a due figure tristemente note per la loro fine, che era accomunata nello stesso giorno, l'11 di febbraio, ma che grandi cose hanno lasciato sul foglio bianco della poesia come un testamento per tutte le donne e per questo devono essere rispettate e io ho voluto dedicarle appunto in questo momento dove le donne sono troppo bistrattate in questa società che sembra non voler riconoscere più il loro valore, e quindi tante volte si sentono fatti questi brutti fatti di cronaca, poi le donne anche in poesia sono un po' trascurate a favore di un certo maschilismo imperante che c'è, per cui non c'è solo un tale, non ci sono questi ma ci sono i grandi. Silvia Platt è una grandissima americana, forse tende un po' a primeggiare, ma la nostra Rosselli, figlia dei Rosselli che sono stati uccisi dai fascisti, e allora ha inventato un nuovo tipo proprio di poesia, un poesia che si rifà ai suoi studi musicali, quindi è come se avesse rinventato una nuova metrica e questo è qualcosa che ancora verrà scoperto in futuro, ancora non è stata scoperta a dovere questa cosa. Per la sezione poesia inedita a tempo libero, prima opera classificata, biografia di una stella di Alessandra Cerminara di Crotone, per la sezione B, poesia in vernacolo a tema libero, figli di Uiumi di Cesare Castiglione di Rende, sezione C, poesia a teme a Silvia Platt e o Amelia Rosselli, primo classificato Lady Platt di Gaia Casanova di Roma, sezione D, racconto breve a tema libero, primo classificato Ridere è un obiligo di Chiara Evangelista di Milano, sezione E, libro edito di poesia, primo classificato Patè di vittima di Davide Minotti di Frosinone, premio speciale Silvia Platt e D'Amelia Rosselli a Corpo e Anima, Giuseppina De Luca di Villa Adriana, premio speciale progetto Alfa a Siome di Negeb di Renzo Piccoli di Bologna, aggiudicati sei diplomi di merito di cui due con medaglia, premio per il lirismo poetico a Salvatore Gaglio in memoria e premio speciale L'Allegra Ribalza di Morano a Trento Vacca.